E la musica poi alla fine ne risente, cioè molte persone si concentrano molto poco sullo scrivere della musica buona e si concentrano prima su tutto il resto, sull'aspetto più che sulla forma perché tanto alla fine anche se fai un pezzo buono poi comunque ti scontri con il fatto che devi spammarlo, devi mandarlo online, poi non arriva, devi pagare per farlo arrivare ai tuoi stessi fan e quindi alla fine è chiaro che la gente presta attenzione più a questi dettagli. Ovviamente non è il nostro caso perché noi ce ne sbattiamo veramente.